Grazie a tutti. Molti sono ricoverati ovviamente nei reparti Covid e si comincia veramente a profilare un futuro molto, molto difficile. Allora, dottor Bartoletti, numeri impressionanti, stanno salendo veramente vertiginosamente tutti i giorni? Ha soprattutto un numero dei morti che è salito, è la situazione dei ricoverati che è preoccupante, uno degli indicatori della preoccupazione è quella. Diciamo che stiamo scontando, questi sono dati che ci dicono quello che abbiamo fatto 14 giorni fa, questi sono i contagi degli ultimi 14 giorni, non sono i contagi di oggi. Quindi le misure che vengono prese in ogni caso sono una latenza di 14-20 giorni prima di essere, prima di vedere i risultati. Ecco, lei mi diceva, giustamente io condivido appieno durante appunto la pubblicità, che spesso si fa purtroppo informazione spettacolo della serie Chi la spara più grossa. Poi però se a questi medici che vanno frequentemente nella TV di Stato e a Mediaset gli si chiede se quanti malati Covid ha realmente visitato e trattato, la risposta non c'è perché non l'hanno fatto. Allora, lei che addirittura è stato il 27 di marzo a Nerola con un camper, una sua iniziativa sperimentale per assistere e fare i tamponi in quella zona, diciamo, abbastanza fredda vicino Roma. Ma ecco, e si è portato solo 3-4 medici, no? Per fare i tamponi. Ecco, magari tutti fossero come lei, dottor Bartoletti. Come l'hai veduta questa idea del camper? Perché era un momento in cui erano tutti fermi. C'era un problema serio per la zona rossa, l'assessore mi ha chiesto se mi aveva fatto vedere un progetto di comunità mobile per andare a risolvere i problemi in giro per Roma. E ho detto, ma quando era a Nerola domattina? Io ho risposto, dammi l'indirizzo e siamo partiti in quattro, più, per me una collegaggione, Maria Grazia, Gambale, Mango e il sottoscritto, con un autista, un'infermiera, Cristina. Siamo andati a Nerola con il camper, con le tute. Abbiamo cominciato a fare questa cosa dal 27 di marzo, ancora io sto dentro, lo facciamo da… io non mi sono mai fermato. Mai fermato? Io ho avuto un pranzo di ferragosto, basta. E lei poi tra l'altro, mi diceva, dottor Bartoletti, che ne ha avuti di casi Covid che ha visitato, perciò voglio dire, in trincea lei ci sta veramente? Qui, diciamo così, questo è un aspetto parabellico, nel senso che bisogna che gli operatori siano sicuri, che con le giuste precauzioni, con la professionalità e conoscendo bene l'operatività, non ci si infetta. Noi siamo diventati da 4 a 5 che siamo partiti, siamo diventati adesso 1.200 con l'ultima infornata, i colleghi che lavorano insieme a noi, non ci piace di finirci il posto più sicuro del mondo, perché noi non abbiamo avuto neanche un contagiato e neanche un infettato. Perché io dico sempre che gli eroi non servono, perché l'eroe è pericoloso, perché fa cose irrazionali. Ripeto, Covid non è in gatto per te il zompa addosso, come si dice a Roma, se ci stai attento e stai a utilizzare i mezzi di protezione e lavori con professionisti, Covid non contagia. È chiaro che il rischio c'è sempre, quindi nessuno si illude che sarà sempre così, io lo spero, però in ogni caso ci teniamo molto al fatto che con noi lavorano soltanto medici, che hanno fatto già una formazione prima allo Spallanzani, che lavoriamo insieme allo Spallanzani, il professor Vaglia e il direttore generale, che ci hanno dato la sponda dietro con tutti i colleghi dell'ospedale, di Cito, Nicassi, Pietrosillo, tutti quanti quelli che lavorano col Covid, Antinori, Duffizi, che sono i primari delle parti, però non scorda a me nessuno, ma si lavora insieme perché questa non è una malattia che si sconfigge sul territorio dell'ospedale, questa si sconfigge se tutti quanti facciamo il nostro dovere. Assolutamente, e per far sì che la popolazione faccia il proprio dovere, il premio Conte si è rivolto per fare un appello all'influencer Chiara Ferragni e al marito rapper Fedez. Allora, nell'uscita di ogni di polemica, dopo che i due influencer su Instagram hanno, mi raccomando, non so se si vede, indossate la mascherina, i gel disinfettanti e il distanziamento. Allora, lei che cosa pensa di questa iniziativa che un capo di Stato deve rivolgersi agli influencer e far far sì che gli italiani rispettino le regole? Ma in guerra ogni cosa va bene, no? Forse magari c'è stato un errore nel divulgare la notizia da parte degli influencer, perché diciamo influenzi la gente sulla buona fede di quello che dici, ma se magari al cittadino dici che te l'ha detto di dirlo Conte, diventa sempre un'informazione di governo e per tale viene presa con le pinze. Lei che ne pensa? Ma io diciamo che in maniera più brutale, dico sempre alle persone che conosco, guarda che stare attento ti conviene. Cioè, bravo. Non è una cosa, diciamo che se c'è l'egoistone, guarda che noi abbiamo visto recentemente una persona che non credeva all'esistenza del Covid, infatti se l'è beccato. No. Indicazionisti. Forse mi sbagliavo, ecco bravo. Il problema è che qui non è che tutti i discorsi legati ai business, non si fa la macina autica perché è tutto quello che si può dire. Dico sempre, non è che se io vengo dei vernici la ruggine è colpa mia, perché così vengo l'antiruggine. Certo, certo. Se la ruggine è un fenomeno naturale, io faccio quel lavoro là, in questa fase avrò più guadagni, ma non è una colpa. Anzi, tra l'altro, in questa fase qui, il risultato che noi stiamo ottenendo in pochi mesi, questa è andata a marzo questa roba qui in Italia, la Cina non ci ha dato molta esperienza e poi in Cina adesso si trova scomparsa. Vabbè. Però in Cina, da gennaio, mi ricordo, i cinesi qua a Roma, no, i cinesi a Roma, quei due in ospedale e quell'altro. Sì, hanno fatto vedere lo sbarco dei cinesi. Non avevamo nessuna esperienza, non abbiamo fatto riscontri diagnostici. Bello, dobbiamo ringraziare perché visto che è venuto da Wuhan il contagio, poi sono venuti a fare i salvatori della patria. Da Wuhan ma anche dalla Germania. Beh, insomma, sono tutti concordi nel dire che è partito dalla Cina. Sì, però da dove è partito? Dove è partito? Al di là di tutto, noi ci aspettavamo una pandemia. La suina, diciamo così, di qualche anno fa, ma ci sono state tre avvisaglie. La SARS, e come dice a Roma, ci ha detto bene. Perché il virus non era un virus molto affine al genere umano. E si è, diciamo così, estinto quasi. Spero estinto. La suina, l'H1N1, che per fortuna era un virus, un gattino domestico. Sì, sì. No, fatti i vaccini, li apremmo con i vaccini. E ora è arrivata la pandemia. Ah sì. Che ci aspettavamo? Perché ciclicamente esistono pandemie. Che nella regolazione dell'universo servono un pochettino da un punto di vista di evoluzione della specie. Ah sì. La pandemia, diciamo così, quello fa. La spagnola, i morti ne ha fatte a milioni. Ah già. No, il concetto qual è? È che noi non siamo invulnerabili e che un esserino microscopico, che sia un microscopio elettronico, riesce a creare moltissimi problemi. Ma il problema vero è che in ogni caso noi siamo abituati a curare le malattie croniche, a vivere fino a 120 anni, tutti i slogan. E poi arriva il coronavirus e ti dice, guarda che forse finisci prima, ti stai a sbagliare. Anche qui, la cosa è, io ti parlo da medico pratico, nasco come medico in generale, quindi sono abituato ad essere molto pratico. Il concetto è, l'unico vaccino che noi abbiamo oggi è distanziamento. Le mani, la mascherina e gli occhiali. Certo. La cautela, quello è già, è prevenzione primaria. Sì. La risinfezione delle mani. Arriverà il vaccino, dicono tutti le sì, speriamo che arrivi. Potrebbe essere fatto. Ecco, è scoraggiante perché un continuo di balletti esce domani, esce dalla Cina, dalla Russia, dalla Francia. Fa parte dell'informazione spettacola. Ecco, anche questo, ma diamoci una regolata, diamo delle false esploranze alla popolazione dicendo che è imminente l'arrivo di un vaccino, quando un vaccino, voglio dire, c'è il tempo fuori. Se avevano 16 anni per sviluppare un vaccino. E poi per creare l'immunità, la famosa immunità di cui si parla tantissimo. Ma non è anche quello il problema, il problema è che, a domanda, preferisci che esce il vaccino domani oppure che esce domani una terapia specifica? Ecco. Io preferirei che domani mi esce la terapia specifica. Anche perché questo vaccino, scusi, dottor Bartoletti, non sarà per sempre come quello per la poliomelite? Non lo sappiamo. Andranno fatti dei richiami, perché se è il circo influenzale, come l'influenza, il vaccino per l'influenza va fatto tutti gli anni, perciò pure questo andrà a farti dei richiami. Non lo sappiamo, diciamo 2-2 e anche 3 dosi. Eh, appunto. E poi non si sa, nel senso che sono troppe... Le varianti sono tante. Le persone vogliono certezze. Eh, certo. Cioè, quando mi dicono che cosa ho, e gli rispondo, non lo so. No, eh, che è una risposta molto onesta, perché non è che io, che io lo so sempre, quindi. E gli dico, guarda, non lo so, vediamo e capiamo, no? In questo caso la risposta onesta è, ma il vaccino funziona? Non lo so. Eh, beh sì. L'unità quanto dura? Non lo so. No? Ma il virus scomparirà? Magari. Detto questo, uno dice, io mi attacco a quello che ho oggi. Eh, ci hai detto. Distanziamento mascherino, eccetera. Le terapie che già cominciamo a fare, già si fanno, nel più breve tempo possibile. E poi tre sintomi che mi hanno tolto di mezzo. Che è l'ansia da vaccino. Ok. L'ansia da tampone. Ok. L'ansia da febbre. E poi l'ansia da contatto. Sono quattro ansie, no? Sì. Che a oggi sono quelle che infestano il sistema. Sì. Però lei diceva, dottore, mi scusi se ne interrompo, dottor Bartoletti, la depressività in questa patologia è importante. Sì. Anche quello, capisco che aggravano il medico di famiglia, a volte chiamano la guardia medica, oppure i più ansiosi vanno direttamente al pronto soccorso. Ma, diciamo, lei diceva, come è giusto che sia, il coronavirus è importante prenderlo d'attacco, non aspettare che faccia il suo corso. Tu ti ricordi al lupo al lupo, no? Eh sì. Appunto, l'ansia non ti chiama quello che ha il problema, ti chiama quello che pensa di avercelo. E pensa di averlo, certo. Alla quinta chiamata, queste sono le persone più pericolose per loro. Eh certo. Perché alla quinta chiamata che mi fai, che tu mi dici la stessa cosa, c'è il rischio che qualcuno meno attento sottovaluti. Sì. Noi abbiamo dei pazienti classici, che tu non li vedi e non li senti. Ma quando ti chiamano sabato o domenica, tu ti alzi e vai a vedere. Neanche dici ma che c'è che non c'è. Vai e li vedi. E tu sai che sono persone che se ti chiamano... C'è qualcosa di... Cioè al contrario, sono anche peggio. Che cercano di nascondere e quando te chiamano dici che non ne possono più. Eh sì. Quindi devi andare lì, ma non importa quant'è. Dici questo non mi chiamano mai, una volta che mi chiamano ci vado perché è pericoloso. Certo, certo. Invece quelli che continuano a chiamare, alla quinta, alla quinta, alla quinta chiamata, ovviamente il volume è diventato insostenibile per tutte le nostre segretarie, anche per noi, non ce la facciamo più. Nel senso che è stancante. Però anche lì ti conviene chiamare il medico quando hai bisogno del medico. Certo. Se il medico ti serve per un consiglio, magari gli mandi un messaggio. Certo. Perché anche adesso ne abbiamo dall'altro. Una volta c'era la segretaria telefonica. Sì, adesso c'è Whatsapp. No, magari solo Whatsapp. C'è Whatsapp, altri social, i messaggi. Perché pure sui social mandano i messaggi i pazienti. Cioè su Facebook. Qualsiasi canale dico, ah ma metti Instagram, ma anche su Instagram. Anche su Instagram. Dappertutto. Non ce l'ho Instagram. Ho evitato. Sulle mail. Alle mail. Ovunque. Ovunque. È chiaro che non siamo multicanale. Cioè io, può andare al telefono, leggo Whatsapp, leggo i messaggi, leggo le mail. Guardo pure i social. Dopodiché. Devo fare il medico a tempo perso. Fatto questo. Certo. E a fine giornata parlo da solo. Anche lì. Uno deve utilizzare le risorse che abbiamo, che i medici sono bravi. Però non portiamoli fuori giri. Certo. Perché se no qualcuno, purtroppo un collega si è successo di un genzano di 62 anni. E tra l'altro era un medico anche molto conosciuto. Esattamente. Un medico molto conosciuto. Lo stress è tantissimo. Stress da Covid. La famiglia questa ha detto. La pressione che hai. Sì. Nel senso che hai. La preoccupazione che stai gestendo la malattia che non conosci. Delle persone che ti chiedono un intervento immediato oppure un tampone immediato e devi spiegargli che il tampone immediato fa pure peggio che non farlo. Perché il tampone ti dà una certezza che non è una certezza. Il tampone è rapido. È una Polaroid. Ho fatto una foto. Io posso fare la foto adesso? No. E magari tu domattina la carica virale che oggi era bassa e quindi non l'ha letta, ti si alza e tu vieni di identifettiva. Ma tu vai in giro tranquilla perché ti ha fatto il tampone negativo. Tra l'altro ecco la carica virale in questo periodo voi riscontrate che si è alzata tantissimo rispetto a queste state. Rispetto ai valori che noi riscontrammo di antigena e rinofaringe ad agosto. Sì. Noi riscontriamo valori anche 10 volte superiori. Accidenti. Su persone asintomatiche. 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 Allora siamo pronti con il collegamento con la dottoressa Irene Bozzi, psicoterapeuta. Abbiamo appena parlato purtroppo di un medico che si è suicidato per stress da covid, un medico di medicina generale, agenzano, una persona molto conosciuta, molto amata dai pazienti e questa notizia ha colto un po' a tutti di sorpresa. Dottoressa Bozzi, buonasera. Eccoci qua in diretta. Buonasera. Allora, questo covid, dottoressa, ha stravolto un po' la vita di tutti. Ognuno reagisce a modo proprio. Abbiamo visto alcune reazioni un po' scomposte di quelli che sono i famosi negazionisti che pensano che il covid non esista, sia qualcosa di strumentale, la politica, le antenne, radio, tv, ne inventano di ogni colore. Allora, ma è vero, dottoressa, che in situazioni di stress la psiche reagisce negandosi il problema come fanno i negazionisti? Ci spieghi un po' meglio. Beh, ci sono alcuni casi in cui la psiche, come giustamente diceva lei, reagisce e cerca di negare l'evidenza, no? Quindi cerca di non, perché non sopporta, perché il dolore, la paura, tutta la situazione nella quale ci si viene a trovare purtroppo in un caso del genere. E guardi che è un caso molto particolare questo, perché gli studi pregressi, di studi pregressi, non ce ne sono, ce ne sono pochissimi e su pochi giorni, tutt'altro, su una decina di giorni, ma non su tutto il tempo che invece stiamo trascorrendo adesso. Quindi esiste, esistono modalità differenti a secondare delle persone e quindi ognuno di noi reagisce in un modo diverso. Ognuno di noi ha, c'è chi ha paura, a chi viene l'ansia, a chi viene la depressione, chi invece appunto come negazionisti negano, negano l'evidenza chiaramente. Certo. E questo è qualcosa che nuoce a tutti noi, è chiaro. Assolutamente. Ecco, nei bambini, dottoressa Bozzi, l'utilizzo della mascherina ovviamente è uno strumento, un oggetto che loro non conoscevano. Che cosa può provocare a lungo termine, ma anche il distanziamento sociale, fare attenzione a visitare i nonni, avere sempre questa cautela, si vedono dei bimbi all'asilo ripresi che lavano le manine con i disinfettanti. Ecco, questo a lungo termine, che cosa può portare ai bambini? Anche ai bambini può portare grossi problemi, attenzione. Quindi bisogna dare dei consigli ai genitori, dei consigli agli adulti, dei consigli agli stessi docenti, gli insegnanti che stanno con i bimbi. Perché in effetti i bambini vanno gestiti in un certo modo, perché l'educazione educo vuol dire porto con me, mi porto insieme, conduco. Quindi i genitori che hanno paura, i genitori che vedono sempre la televisione, quindi ascoltano sempre le notizie e molto spesso purtroppo in questo periodo le notizie non sono certo positive, devono evitare di far vedere ai bambini certe cose, però devono comunque comunicare ai bambini e insegnare ai bambini che ci sono delle accortezze, questo sicuramente. Certo che i bambini a volte reagiscono in modo anche loro diverso, perché i bambini stando a casa come sono stati nel passato proprio per il Covid e devono essere dai genitori portati a continuare ad avere una vita scansionata dai tempi dove c'è il gioco, dove ci sono i compiti da fare, dove c'è anche l'ascolto dei genitori stessi, perché a volte i genitori perdono pure la pazienza perché non ce la fanno a stare dietro ai propri figli, soprattutto tante ore al giorno. Quindi è opportuno dare dei consigli a questi genitori e fare in modo che i bambini apprendano quelle regole che sono la mascherina, che lavarsi le mani, che cercare di essere attenti e purtroppo il non abbracciarsi, mentre i bambini sono abituati a toccarsi, perché per i bambini dal punto di vista dell'apprendimento loro iniziano ad apprendere toccando, toccando il seno materno. Magari sotto forma di gioco, dottoressa Bozzi? Sotto forma di gioco, metterla un pochino sotto forma di gioco? Certo, va messa sotto forma di gioco, perché i bambini attraverso il gioco riescono a comunicare e quindi riescono anche a trovare una situazione che possa essere differente, senza però sconvolgergli la vita, senza continuare a comunicare la nostra ansia e la nostra angoscia. Capisco che non è facile. Assolutamente, certo, certo. Non è assolutamente facile. Dottoressa Bozzi, in questo periodo diciamo che abbiamo visto il calo dell'economia che sta veramente in disarmo, molti problemi per i lavoratori, forse una categoria che invece, fra virgoletta, ha guadagnato in questo periodo è quella degli avvocati. Perché, dico questa frase abbastanza ironica, ma non tanto, quante coppie sono scoppiate durante il lockdown? Tante. Guardi, è successo, durante il lockdown è successo di tutto, perché le famiglie, anche famiglie che apparentemente erano delle famiglie sane, hanno avuto dei grossi problemi. E questo purtroppo si è scatenato perché lo stare a contatto 24 ore al giorno con una persona, anche se tu questa persona pensi di volerle bene, no? Di essere vicina a questa persona. Prima parlavo dei bambini, per cui succede che anche i piccoli possano creare una situazione di disagio all'interno stesso della famiglia. E poi è il disagio proprio della persona, della singola persona, perché non siamo abituati a vivere in questo modo, non siamo abituati ad avere paura di un qualcosa che non sappiamo, se lo prendiamo, se non lo prendiamo, che cosa succede. Tutto il tempestio di voci o intorno a noi, su tutto ciò che può essere il condizionamento anche, no? Non riusciamo ad essere liberi, non ci sentiamo liberi, ci sentiamo condizionati appunto dalla paura, dal timore di poter essere infettati, dal timore di poter infettare i nostri cari, no? E questo crea delle tensioni all'interno della coppia, dottoressa Bozzi. Crea delle tensioni enormi all'interno della famiglia, purtroppo. È vero che abbiamo avuto noi moltissime chiamate proprio per, di aiuto, per i telefoni, attraverso, come diceva prima il dottore, no? Perché ci chiamano, ci chiamano con WhatsApp, ci chiamano, ci chiamano in tutti i modi. Molto spesso ci vogliono proprio vedere, ecco. Cioè, il contatto umano è importante, no? Beh, questa pandemia, questa pandemia, dottoressa, ha portato un isolamento terribile, perché sia durante il lockdown, ovviamente tutti i single si sono ritrovati a gestirla veramente da soli, ma parliamo soprattutto degli anziani. Ecco, gli anziani che non hanno quella dimestichezza con internet e con i social media, che cosa facevano tutto il giorno? Magari loro l'unico divertimento era scendere al bar sotto casa? Certo, perché gli anziani che prima, ecco, andavano alla bocciofila, andavano a giocare a 3-7, avevano una loro vita che li faceva sentire bene, li faceva sentire ancora, non dico giovanissimi, ma giovani. Ma vivi, vivi, certo. Perché hanno accontato con gli altri, no? Questo non è stato più possibile. Io ho avuto, per esempio, una persona che, proprio un anziano, che mi ha detto proprio questo, perché io parlavo di bocciofila, ma io come faccio adesso? Come faccio a non vedere nessuno? Perché da solo, come faccio? È terribile. Ed è terribile questo. Pensiamo agli anziani, pensiamo alle persone che hanno dei problemi anche fisici o psicologici, no? Certo, certo. Non solo la solitudine, certo. Che hanno bisogno, esatto, che hanno bisogno di stare con gli altri. Per esempio, quando finisce la scuola, ci sono molti ragazzi che hanno problemi e che durante l'estate, pur stando con la famiglia che li porta in vacanza o che cerca di fare delle cose, quando ritornano poi nel loro ambiente scolastico, non è più la stessa cosa. Perché hanno bisogno di recuperare, no? Quindi un lungo periodo per recuperare. Quindi pensiamo a quattro mesi, cinque mesi di questo vivere. Adesso di nuovo stiamo rientrando in una situazione analoga. Allora è una cosa terribile, ecco. Terribile proprio per le persone più deboli. Certo. E molte persone non sanno di essere deboli. Questa è la verità. Eh sì. Non sono consapevoli di esserlo. E quindi diventa ancora più problematico. Certo. Quindi ci sono sintomi, tra i sintomi c'è anche quello dell'abbandono. Dell'abbandono, assolutamente. Esatto. Uno si sente abbandonato, uno si sente solo e anche se ha una persona vicina al fianco, molto spesso quella persona vicina non gli è di grande aiuto. Assolutamente. Dottor Bartoletti, vuole fare una domanda alla dottoressa Bozzi su come gestire i pazienti che la tartassano di telefonate? Vuole chiedere un aiuto su come gestirle? Ma non è l'ha detto. La verità è che è una richiesta di contatto. È una richiesta di contatto. Loro vorrebbero... Ma c'è gente... Ricordiamoci quello che è successo durante il periodo della chiusura totale. La gente cercava attraverso i social, attraverso i balconi. Ma pensate chi non ha la finestra o il balcone che va per strada. Cioè, se alla gente... Noi dobbiamo pensare non a chi vive in una certa dimensione. È certo. Ma a tutti quegli altri che sono la maggioranza. Che casomai non riescono a vedere neanche il vicino di casa. Assolutamente. Dalla finestra, capite? Ecco, ma fare, dottoressa, la... Si, prego. Sì. Sì, no, dico, abbiamo riscoperto alcune cose, no? Quindi, le canzoni. E quindi cercare di fare ginnastica attraverso i social, cercare di... Però non tutti sono in grado di fare questo. E questo è il problema. Non tutti sono in grado di usare i social. Il problema è vero. E la maggior parte non è in grado di usare. Ma pensate, ecco, la scuola a distanza, no? La scuola attraverso i computer. Ma quante famiglie hanno due computer da poter utilizzare? Uno per il papà o per la mamma, no? Che sta lavorando... Eh, però, ecco, qui pure gestita male dal governo. Abbiamo dato il buono monopattino, potevamo dare il buono computer, visto quello che si stava profilando, no? Invece di andare in giro col monopattino, forse era il caso di dare il computer alle famiglie più bisognose, no? Monopattino e bicicletta. E poi la gente non va a scuola in monopattino, in bicicletta. Eh, assolutamente. Perché se di luvia prende mezzi pubblici, no? Eh, certo. E non è solo questo. Cioè, continuano a dirti adesso, l'app Immuni, ma io per esempio, che ho un iPhone 6, dovrei comprare un iPhone 7 per poter avere l'app Immuni. Lo sapete questo? Sì, quante persone, non dico io, ma in genere, quante persone di una certa età non sanno neanche che cosa vuol dire l'app Immuni. Assolutamente. E se hanno per caso un cellulare, hanno un vecchio cellulare con i tasti, con i numeri grossi. Grandi per gli anziani, sì. Gli anziani, soprattutto. Soprattutto loro. Ma come si fa a rendere un'obbligatoria un'applicazione che non può essere usata... Su tutti i telefoni, certo. Su tutti i telefoni, diciamo. Ma la psicologia, cioè la psicoterapia a distanza, ha lo stesso effetto della psicoterapia di persona, dottoressa Bocci? Io le dico una cosa, molto spesso si danno dei consigli, molto spesso la gente ti chiama perché ha bisogno di parlare con qualcuno, molto spesso tu cerchi di aiutarli, però non è sempre così, non è la stessa cosa. Allora, dottoressa Bozzi, io la ringrazio infinitamente per questo collegamento. Ricordiamo la dottoressa Irene Bozzi, psicoterapeuta, per questo supporto che ha dato alla trasmissione, soprattutto per la chiarezza su tutto quello che abbiamo chiesto e prospettato per l'abbandono, la solitudine e come cercare di, diciamo, venirne fuori. Certo, ma ci sono comunque, ci sono diverse modalità, per esempio nella Lombardia, l'ordine nostro degli psicologi della Lombardia, come quello del Lazio, come tutti gli altri, hanno cercato di dare una mano, di dare un aiuto. Perché si è parlato tanto del discorso medico, clinico, terapeutico, i vaccini, eccetera. Però si è parlato poco dell'aiuto psicologico e io vi ringrazio davvero. Ma ci mancherebbe, grazie a lei dottoressa. Grazie infinite per la sua presenza in studio, alla prossima puntata. Grazie dottoressa Bozzi, buonasera, grazie. Allora, dottor Bartoletti, siamo in chiusura, una manciata di minuti alla sigla, io vorrei chiedere un'altra cosa importante. Allora, molti anziani non hanno nessuno che gli porti i farmaci e sono magari dipendenti da tanti farmaci. Come si è attrezzata la regione Lazio e i medici di famiglia per dare questo servizio? Perché una volta si parlava di farmacia a domicilio, però poi se ne parlava, ma sui fatti non si è visto niente. Ecco, c'è qualcosa che bolle in pentola? Ma diciamo, molto ha fatto la Croce Rossa, eh. La Croce Rossa si sono attenti con molti volontari e molto hanno fatto la sessione di volontariato, anche con i ragazzi, che portavano a casa i farmaci. Sì. Quindi, perché la legislazione è abbastanza complessa, noi non possiamo portare a casa i farmaci perché i medici... No, assolutamente. No, abbiamo fatto una città dematerializzata, anche lì c'è il tema, no, non tutti hanno il computer a casa, non tutti hanno la stampante. Ecco, questo ricordiamolo, perché tanti giovani non sono informati della ricetta dematerializzata, sebbene voi l'abbiate detto in più occasioni, ma magari non addetti ai lavori, non sanno che esiste la possibilità di collegarsi in un sito che fornisce il medico di base, dove c'è una password, dove si entra e anche scrivendo un messaggio su WhatsApp, il famoso WhatsApp o una mail al medico, il medico è in grado di mandare direttamente sulla mail la ricetta che va stampata e poi si possono acquistare i farmaci, senza dover fare la fila dal medico di base per prendere le ricette. Diciamo che questa è un'attività che è stata, diciamo così, informalizzata quasi totalmente, rispetto all'inizio abbiamo avuto problemi, per esempio con i farmaci antitonolifici, con i farmaci oggetto è pieno di terapeutico. Rimane il fatto che in ogni caso, non è che io posso segnare per corrispondenza ai farmaci. No! Quindi è chiaro che il tema qual è? Il tema è che in ogni caso la giurisprudenza prevede che io devo fare la visita. Questo vale per i farmaci aguso cronico, diciamo così. Beh sì, perché se ci sono persone, lei ha le schede di tutti i pazienti e sa le patologie che affliggono ogni paziente, quindi se è un paziente, poi vi risulta insomma, se è un paziente chiede... No, su quello sì, però per esempio c'è una sentenza di ricastazione recentissima in questa settimana che dice che in ogni caso anche la prescrizione è telefonica, no? Non va bene per i suoi problemi giudici perché presuppone, è come fosse un certificato, cioè sto attestando uno stato di malattia e sto prescrivendo dei farmaci. Quindi diciamo ci sono delle regole da seguire, non è banalizzando la ricetta... No, 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 certo. No, no, non lo dico a te, ti sto dicendo perché poi l'immaginario, no? È un po' come vi dà la pastiglia di carosone, cioè sembra quasi una cosa così... No, quello è sempre un farmaco, anche se... Assolutamente, no, no, assolutamente. Quindi va sempre utilizzato da chi ne ha bisogno e questo lo dici dal medico. Certo, certo. Comunque insomma per i farmaci a domicilio per gli anziani non esiste un sistema che sia stato studiato... Però mi ricordo anche per i più quarantenati, che è l'altro problema, molti che stanno in quarantena, se non hanno un congiunto che può andare in farmacia a prendere i farmaci, gli portano i farmaci... E chi li porta? Anche lì, diciamo sotto lockdown, ripeto, hanno fatto un lavoro eccelso, la stessa Croce Rossa, che è la situazione di volontariato, anche i cittadini del quartiere si sono organizzati. E adesso bisognerà cominciare a ripensarci, perché il problema è un problema che è surto, se noi ci pensiamo, noi un mese fa non stavamo così. Che scenario si prevede, dottor Bartoletti, vista la sua grande esperienza sul campo con il Covid e con milioni di pazienti che lei ha sempre gestito nella sua vita? Io scassando, dico sempre che è peggio di venire, quindi... Ah, ecco, meno male. Faremo un santo Natale, proprio. Lo dico sorridendo. E' chiaro che noi non possiamo prevedere che nei prossimi giorni, dove arriverà il generale inverno, no, le patologie febbrili non saranno un problema. Io, diciamo, conto su un fatto, che le persone hanno capito che questa è una minaccia che ancora c'è, che secondo me, se uno capisce che ti conviene stare attento, se ti conviene e mi conviene stare attento, qualcuno dice, ma a fin dei conti forse è meglio anche per me che lo faccia, e dovrebbero arrivare farmaci specifici, oltre al fatto che questo vaccino che prima o poi dovrà arrivare. Però il farmaco specifico lo posso utilizzare appena è arrivato, appena sarà sperimentato, penso che saranno... Non manca molto tempo. Serviranno i tempi per la sperimentazione, che stiamo accelerando, e saranno farmaci domiciliari. Quindi proprio per curare le persone all'inizio della malattia. Per questo io sono, ovviamente, ottimista. Cioè l'obiettivo non è tanto evitare, i casi devono aumentare in un modo non esponenziale da mettere in sofferenza, rianimazioni ospedali. Se noi manteniamo bassa l'onda dei contagi, bassa, e prendiamo... Non sembra, non sembra con quello che sta succedendo. Rispetto al resto d'Europa... Non sembra. Rispetto alla Francia, Germania, Spagna... Vabbè, allora rispetto al Sud America pure. Esatto, però noi eravamo i primi del mondo prima. Eh sì. Noi siamo i ciottesimi. Ma cosa abbiamo fatto? Un bicchiere è mezzo pieno, da questo punto di vista. Poi, i farmaci arriveranno nei prossimi mesi. Più stanno bassi i contagi, più riusciamo a gestire meglio il problema, più riusciamo a mettere le energie e le risorse sulle persone che hanno effettivamente bisogno, e prima arriveranno i farmaci innovativi. Ripeto, mi penso che entro l'anno mi fai sperimentare e già arriveranno. E lì, sul farmaco specifico, se io ho un sintomo a casa di una persona, faccio il tampone del Covid, e il farmaco specifico, e il farmaco, diciamo così, dimostra di essere valido, io ho un'arma formidabile in mano. Mi ha attesa del vaccino. Ecco, però una volta, mi sembra di capire, che arrivi questo vaccino e sia efficace, si possa fare a tappeto, prima ovviamente su tutta la categoria medica, forse dell'ordine, ospedali, e poi a scendere sulle persone, diciamo, meno attive sul fronte, non ci tutelerà totalmente, perché facendo parte dei sceppi influenzali, noi dovremmo comunque convivere con una patologia a rischio. Diciamo che ormai il virus sta da noi, quindi non è che. La differenza tra un farmaco specifico e il vaccino è una. Il vaccino, diciamo così, non solo protegge la persona vaccinata, non sappiamo quanto funziona, tutte queste belle cose, non lo sappiamo. Però in linea teorica, protegge direttamente il vaccinato, e in una percentuale, alto o bassa che sia, e indirettamente tutti gli altri, perché diminuisce il serbatoio del virus. Ah, ok. Quindi il virus cammina, anzi corre, quando c'è poca gente esposta. Noi pensiamo, gli indiani del Nord America, che furono sterminati dal vaiolo, perché era una malattia di cui loro non avevano nessun tipo di conoscenza come organismo. Quando portarono il vaiolo, anzi spesso sono stati uccisi e posta con il virus del vaiolo, il vaiolo veramente li sterminava. Questo qua funziona, non è il vaiolo per fortuna. No, no, ebbè. No, è un virus molto più insidioso del vaiolo, perché il vaiolo l'abbiamo eradicato, ma è una malattia terrificante. Il vaccino l'abbiamo eradicato. Questo qui lo possiamo, da una parte, proteggere il vaccinato, dall'altra, limitarne la diffusione, perché il vaccino ha meno soggetti che possono diffonderlo. Quindi diciamo che il vaccino ha due effetti. La cura specifica ha sicuramente un effetto che va sulla persona, e la malattia ha un'evoluzione diversa, quindi può veramente essere una malattia curabile in pochi giorni, e non più, ripeto, ogni malattia, poi proprio per carità, è sempre un problema statistico, diciamo però, un farmaco specifico si va meglio, però non risolve il problema della diffusibilità, uno. Due, non tutti i paesi del mondo se lo possono permettere, perché non è detto che il farmaco in Italia se lo possiamo permettere, se lo possono permettere le popolazioni in paesi in via di sviluppo che non ce l'hanno i soldi. Quindi il vaccino paradossalmente è molto più equo rispetto al farmaco specifico, perché è un prodotto che anche nei paesi in via di sviluppo sarà sicuramente offerto, che consentirà di limitare la diffusione. Il farmaco specifico è un elemento di diseguaglianza, perché c'è chi ha i soldi per poterlo comprare, acquistare e dare, c'è chi non ce l'ha. Certo, in Africa abbiamo sentito che in alcuni stati proprio non vengono dati i numeri, proprio come imposizione del governo, per non spaventare la popolazione, perché sono numeri allucinanti. Non abbiamo proprio i dati, per esempio per quello che riguarda l'Egitto, la Nigeria, eccetera, non si sa. Non abbiamo a disposizione i dati, perciò insomma, questo è. Speriamo appunto in questo vaccino, speriamo che sia efficace, speriamo, speriamo, però in conclusione, dottor Bartoletti, l'unica arma che abbiamo a disposizione sono le regole da rispettare. Distanziamento, mascherina, gel, assolutamente cercare insomma di usare tutte le accortezze possibili per far sì che insomma questo Covid non colpisca tutta la popolazione a tappeto come sta avvenendo. Più tardi, come abbiamo già detto, verso le 20.30, dato l'annuncio alla DN Cronos, ci sarà questo nuovo DPCM del Premier Conte, vedremo quale misure avranno studiato i politici insieme al team di esperti e vedremo cosa ci riserverà. Noi siamo in chiusura, Federico, credo che sia così dalla regia, siamo in chiusura, ok, la regia mi conferma Federico Aiello che siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Pierluigi Bartoletti per essere stato in diretta con noi due ore, grazie infinitamente per tutte le informazioni importanti che ci ha dato, ringrazio anche l'Avvocato Donne, la dottoressa Irene Bozzi che si sono collegati, niente, ci vediamo domani ancora in diretta dalle 20 alle 20 in diretta domenica per ancora parlare di tanto altro ancora. Buon pomeriggio e buona serata da Roberta Feliziani. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a tutti per essere stati con noi.